Rischia di venire a Gallo un altro caso di partite truccate. I sospetti sul 6-1 del Paris Saint-Germain contro la Stella Rossa Belgrado il 3 ottobre in Champions League hanno costretto la giustizia francese ad aprire un'inchiesta. Già alla vigilia del match l'UEFA era stata informata che un alto dirigente del club serbo avrebbe scommesso tra i 3 e i 5 milioni di euro sulla sconfitta della sua squadra con 5 gol di scarto, cosa che è poi puntualmente avvenuta. Il quotidiano francese Lequipe ha vivisezionato la partita e ha trovato che la difesa della Stella Rossa sia stata passiva in maniera sospetta. Secondo il giornalista investigativo Declan Hill dietro tutto ci sarebbe la lunga mano della criminalità organizzata balcanica.